Un supermercato ideato per ridurre al minimo l'impatto sul territorio ed essere sostenibile dal punto di vista ambientale. Inaugurato oggi a Milano in via Pietro Giordani 30, in zona Lorenteggio, un nuovo punto vendita di Lidl, catena leader della grande distribuzione italiana, uno store innovativo, pensato per i grandi centri urbani, che ha permesso di recuperare un'area dismessa. Il supermercato è frutto di un progetto di riqualificazione edilizia di un'area dismessa da oltre dieci anni e si struttura su due livelli. Questo format ha una speccata propensione green, cito alcuni esempi, un impianto fotovoltaico da 45 kilowatt che permette una copertura di circa il 25% del fabbisogno energetico del supermercato, l'installazione di colonnine per il rifornimento di auto elettriche o ibride, l'utilizzo di materiali altamente coibentanti, così pure l'illuminazione a led che ci permette un risparmio di circa il 50% rispetto all'illuminazione tradizionale. Non solo, ma questo negozio di ultima generazione Lidl rispecchia l'evoluzione che l'azienda ha voluto avere in quest'anni, da discount a un vero e proprio supermercato di prossimità. Il nuovo punto vendita si sviluppa su due livelli, con oltre 110 posti auto al piano terra e un'ampia area vendita a quello superiore. Sugli scaffali oltre 2000 prodotti, oltre l'80% dei quali made in Italy. Una serie di peculiarità che rendono particolare e caratteristico il nuovo store di Via Giordani e che appaiono apprezzate dai milanesi, che nel giorno dell'inaugurazione hanno affollato il supermercato. Compro la frutta, la carne, prodotti da forno principalmente, farine, pasta e ho visto che l'assortimento è decisamente vasto. Trapani, il punto del trapano, ricambi eccetera, perché sono stati convenienti come prezzo in generale. E poi il resto dei prodotti che sono anche alimentari eccetera, che sono convenienti.